e rieccoci qui ragazzi ovunque ragazzi mi aggiorno che oltre a me è entrata in anche la nostra narumi oltre a mister bob chiara la compagna di darato la nostra cara f chryser e anche Norisawa Grazie a tutti 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 Mi sarà utile Grazie a tutti 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 me lo tengo per dopo me lo tengo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Due noi, due loro. Mi sembra equo. Il loro numero è sceso di molto, grazie a te. Eliminiamo questa minaccia e teniamo Saiyan al sicuro. Parla come gli sciamani. Ma è più chiara. Avverto un ecco di mia sorella in lei. Prendetevi cura di voi, Ardak. Arrivederci. Grazie. 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 mia. E poi mi toccherà fare qua. E' un'ivera impresa. Allora, fin di tutto raggiungiamo un luogo per fare un rifornimento e poi procediamo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Meglio a tutti. Grazie a tutti. 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 Meglio a tutti. 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 ok. a tutti. 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 la luce. a tutti. 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 a tutti.